ciao a tutti e bentornati ancora una volta su indie gameplay ita oggi voglio portarvi l'ultimo tutorial di mombazoo cioè il late game nel senso che una volta che avrete imparato come negli scorsi tutorial vi ho mostrato a produrre sciroppo d'acero con una ottima efficienza quindi usando come vi ho fatto vedere l'energia elettrica vabbè l'auto io ce l'ho pronta ma questa è un'altra storia il buggy l'ho finito l'ho anche colorato il late game è basato sulla coltivazione di queste piante qui e quello che dovrete fare come primissima cosa è andare al centro della della mappa più o meno dove c'è scritto break andando a sinistra e in alto vedete che ci sono delle sorte di x quelle x sono le pale eoliche adesso poi andando in città vi mostro dove andare dovete salire sulle pale eoliche ci sono delle scale troverete dei semi i semi li piantate e pian piano vedete quando voi poi raccogliete una piantina c'è una possibilità che un seme piantato quindi una piantina vi dia due semi e via via moltiplicate una volta che questo ve l'avevo mostrato l'altra volta una volta che raccogliete l'erba che c'è lì la mettete nel nel secchio e sul secchio io l'ho perso in realtà e eccolo qua vedete lo raccogliete vedete che vi dà un seme in questo caso si uno solo lo ripianto vabbè con il diciamo il secchio semi pieno ogni 10 per cento ci crea una confezione cliccando qua da 10 che potete usare voi stessi oppure una volta che arrivate ad averne 10 adesso io qua non riesco a farvelo vedere perché ne ho solo un 60 per cento quindi sono riuscito a farne 6 una volta che ne avete 10 premete sullo scotch e fate il pacche il pacco da 10 il grande pacco il quando ne avete 12 li dovete mettere nel nel baule insomma nel vostro pick up e andrete a consegnarli dove vi farò vedere altra cosa quello che andrete a vedere adesso è praticamente una fase molto avanzata di gioco arriveremo sulla mappa vedete in alto dove c'è scritto continent andremo in quella zona lì ci andremo col furgone perché col furgone mi trovo meglio sentite questi rumori qui ecco loro stanno lavorando sotto terra per la costruzione dell'edificio più costoso costa 40.000 io li ho già pagati ci metteranno 6 7 giorni a costruirlo e ve lo farò vedere alla fine di questo tutorial questa è la fase più avanzata di gioco ma non vi dico ancora nulla lo vedremo dopo ora io vado a dormire aspetto il giorno successivo e poi vi mostro dove si deve andare per consegnare il tutti i 10 pacchi i 12 pacchi di erba ora vado a dormire e mi sa che avrò da consegnare del dello sciroppo credo ma per questo tutorial non non lo faccio andiamo vi faccio vedere anche un'altra cosa che si può acquistare sempre alla federazione dello sciroppo da cielo intanto sentite lavoro anche di note proprio ma poi questo arriverà a sette giorni e arriverà vi farò vedere sarà veramente eccezionale andiamo di là quello che dovete fare comunque all'inizio gioco e collegare almeno 100 piante quindi pian piano vedete io ho creato il piantaggio nella potrei anche pian piano eliminare queste e concentrarle tutte qui però questo è una finezza insomma che magari farò una volta che aggiungeranno il gioco e aggiungeranno nuovi contenuti e ora vi faccio vedere che c'è un'altra macchinetta alla federazione che potete comprare ed è questa macchinetta qui questa macchinetta qui potete comprare dei tappi li inserite vedete ne ho 41 inseriti io adesso prendo uno lo bevo ok potete comprare i barattoli i barattoli vengono poi ancorati in automatico alla cassetta quindi potete portarvi tutti insieme mettendolo qui lui prende l'uno un'unità di sciroppo d'accia ho già riservato della riserva e vi creerà il diciamo come le casse di birra in mais a mercato e ve le potete mangiare bere mentre siete in in giro intanto io ho un altro sciroppo da fare quindi lo metto qui e lo inizio a fare così almeno inizia a scendere una volta che scende ricomincia a produrre perché anche perché abbiamo visto i bari di strapieni quindi va bene ora vi porto dove bisogna portare i pacchi dodici pacchi d'erba e ci rivediamo una volta che saremo alla fine in città sul ponte ecco praticamente vedete se andate verso adesso andato addosso se andate seguendo questa strada in avanti parcheggiate sotto la montagna e potete salirci tranquillamente a piedi sotto c'è una porta qua forse si vede e aprite la porta e salite le scale ecco vedete che c'è la porta là aspetta che mi fermo c'è una porta là davanti vedete con una scaletta e dentro salite in cima troverete una cassetta degli attrezzi all'interno potete trovare dei tool quindi ho trovato una chiave inglese e un pacchetto di semi e li potete iniziare a piantare inizia altra volta la coltivazione questo sarebbe da fare all'inizio del gioco in modo da iniziare subito con la produzione anche se i veri soldi arriveranno dopo e per il momento sarete abbastanza abbottonati sotto quell'aspetto ora arrivati in fondo alla città qua c'è la segheria qua vi comprano i tronchi interi invece che i pezzi di legna proseguite dal ponte questa è la zona che hanno giunto da da poco penso sia stato l'ultimo aggiornamento che hanno fatto la zona sembra abbastanza grossa infatti penso aggiungeranno qualcosa perché qua nella strada sotto non credo vado da nessuna parte ma non ho ancora non ho ancora esplorato vi consiglio di attivare il 4x4 qua perché comunque mette a dura prova il nostro mezzo salendo se seguite la strada principale rivedete un punto in cui non è più non è più esplorabile e vi bloccherà una barriera virtuale vi dirà bloccato chiuso insomma aspettate le prossime patch una volta che arrivate qua vedete quella strada che sale seguitela la strada è piuttosto impervie e vi prima volta mi sono chiesto dove sto andando a finire ho dovuto tirare il freno a mano perché ok attiviamo il 4x4 che siamo più più agevoli la zona non è bellissima come vi ho detto tra l'altro c'è un modo di raggiungere il questo finile questa location anche via nave via barchetta non la dovete comprare in città e poi con la barchetta potete raggiungere il cottage e il e questa location qui quindi potete muovervi anche via nave ecco adesso io ho fatto la cavolata e sono finito giù perché mi sono distratto a parlare va bene allora continuiamo seguire la strada si piccato perché da veramente tanta attrazione soprattutto sul piano non è il massimo di solito mi lascio scorrere giù che tecnicamente dovrebbe anche consumare meno anche se ormai i soldi non sono più un problema perché ogni settimana con l'ottimizzazione che ho avuto prendo più di 20 mila dollari per dalla federazione dell'ora dello sciroppo ok dietro quegli alberi avete visto già un edificio rosso quello che dovrete fare all'inizio è andare in alto lì ci sarà un cerchio vicino con la scatola e praticamente mollate lì i pacchi grossi ne dovete mollare 12 a quel punto cosa succede succede che qui questa la parite comunque ma arrivati qua in fondo questa porta qui vi sarà preclusa in realtà adesso lo potete fare in realtà devo aspettare le 10 quindi devo aspettare un'oretta qui ma una volta che avete consegnato i 12 pacchi di erba grossi questa porta qui la potete aprire e adesso attendiamo un attimo un paio di minuti adesso vi sto a far saltare il tempo in modo che apre e possiamo entrare ecco qua sono finalmente giunte le 10 e quindi andiamo ad esplorare questo posto a questo posto vabbè notate già chi c'è e potete impaccettare anche qui fare le vostre produzioni non ha molto senso ma qua vi vendono delle cose vi vendono il harvest basket quello grande enorme vi vendono il packaging machine questo qua vi permette con 25 mila dollari di produrre con 10 pacchi grandi un pacco enorme il pacco enorme ve lo pagano una barca di soldi quindi calcolate che bene o male un pacco grande può valere 500 la singola il singolo pacco vale 65 non potete venderlo una volta al giorno alle persone solo ad alcune della friendship francis ad esempio i due nella in città eric e jack quindi gli vendete uno e sale di uno la reputazione gli parlate sale di un altro la reputazione quindi accelerate la risalita della reputazione questo invece interessante perché il big electric compost machine allora nel cottage che vedete in alto quel cerchio che c'è in alto a sinistra della isola tutta destra lì c'è il cottage che potete acquistare il cottage vi da terreno aggiuntivo dove tagliare alberi dove piantare fa piantagioni ma c'è una macchinetta dove gli buttate tutti i rifiuti organici e vi crea il compost quindi praticamente il fertilizzante questa ve ne produce molto di più quindi praticamente quello lo acquistate per potenziare diciamo la produzione di fertilizzante e aumentare la crescita delle piante ultima ma non ultima la più interessante costa 10 costa 40 mila e questo è un bunker ricordate quei suoni che sentivamo di martello pneumatico e lavori ecco questo lo vedremo dopo perché questo è la fase più avanzata non è l'oggetto più costoso del gioco perché l'oggetto più costoso del gioco è al centro della mappa sinistra dove c'è quel circuito c'è scritto stick lì se date a eric che è al momento nella stazione di servizio l'uomo seduto sullo sgabello se gli date 70 mila dopo aver raggiunto il massimo della amicizia con lui quando raggiungete il 50 no non è eric normanda scusate owner of the race track quando raggiungete il massimo a lui potete vendere da eric norma lui vi permette di dargli 70 mila dollari per la costruzione del del race track il race track è la fase finale del gioco perché lì avete un appartamento vostro troverete un'altra auto da sistemare e avete un piccolo garage con tutti gli oggetti che al momento non avete nel vostro tipo uno smontagomme un compressore per gonfiare le gomme e così via quindi ora non resta anche andare a vedere il bunker ovviamente io adesso qua vedete c'è un molo potete arrivarci anche via barca ora mi ci vorrà un bel po perché devo far passare una settimana circa quindi chiudo e mi metterò poi a lavorare continuerò la produzione di sciroppo d'acero continuerò la mia coltivazione continuerò il farming delle reputazioni con le altre persone aspettando che passi questa settimana ormai credo sia passato uno o due giorni e quando il bunker sarà pronto lo vedrete subito ora appunto mi metto al lavoro e ci rivediamo dopo ed eccoci finalmente qui ho aspettato qualche giorno insomma dove ho continuato un po la mia coltivazione perché siamo pronti i rumori non si sentono più il bunker è pronto sono stato anche avvisato da un messaggio in game dovrei aver completato praticamente ormai quasi tutto di quello che c'è da fare si è aggiunto questo tra l'altro quindi ci sono ancora alcuni obiettivi in gioco che non ho raggiunto ma ormai direi di averlo praticamente finito a parte la parte non dico a racing perché quella l'ho fatta ma la parte del del speedway del circuito ma vi siete sempre chiesti magari vedendo i video perché la porta del bagno fosse smontata beh sappiate che questo è uno degli oggetti più costosi del gioco noi apriamo la porta il bagno è stato completamente rifatto tuttavia c'è un piccolo passaggio segreto che si cela sotto la vasca da bagno e ci porta nel nostro segretissimo bunker il bunker che possiamo accendere così qua abbiamo una radio la radio serve ad abbassare l'ansia e potete anche caricare la vostra musica presente sul computer qua abbiamo il sistema di non so cosa sia di di watering vedete che va a bagnare adesso lo spengo si può impostare l'ora credo sì sì va bene è la prima volta che lo vedo insieme a voi quindi qui è il big pack per impacchettare qua abbiamo le piante che possiamo andare a piantare qui quindi qui avremo un sistema automatico di irrigazione quindi teoricamente potrebbe anche magari non non ammalarsi mai una pianta trovandosi in quest'ambiente comunque ci sono le casse su tutta la parete questo alla fine è il bunker quindi io dovrò adesso andare ad acquistare adesso qua posso spegnere ad acquistare più vasi possibili perché qua dovrò adesso trasportare tutti tutti raccogliere più semi possibile prendere più vasi possibili e piantarli tutti qua sotto sarà un bel un bel viaggione qua perché veramente ci ci vorrà un po di tempo ora il gioco è finito io pensavo di comunque scrivere allo sviluppatore e dirgli che comunque questo gioco l'ho spolpato lo continuerò perché non ho fatto tutto tutto ma vorrei dare anche dei suggerimenti nel senso che sarebbe molto bello il fatto di questo bunker così segreto è un peccato diciamo non aggiungere la polizia ad esempio è un peccato non far sì che magari ci facciano i vostri vlog piuttosto che le ispezioni quindi dovremmo avere cura di chiuderlo sempre non lasciarlo mai aperto se non ci beccano e a quel punto magari ci rovinano insomma quindi e di cose di cose da aggiungerci ne potrebbero essere tantissime ora so solo che mi aspetta un lavoraccio perché devo portare tutti i vasi giù ne comprerò sempre di più e niente e poi qua sistemerò tutta la mia nuovissima coltivazione il bunker è qui 40 mila al costo qua serve per imballare quindi li posso fare direttamente da qui quindi praticamente posso portare il secchio qua dopo averlo raccolto e va bene e qua non sono onestamente non so come si faccia però vedete io attivo così e lui va a bagnare tra l'altro mi è arrivata anche una bolletta calcolate che lasciando praticamente sempre acceso il sistema di irrigazione di irrigazione sì di diciamo creazione della pompa che prende la linfa dagli alberi e quella di creazione del dello sciroppo d'acero in due settimane ho speso 120 che assolutamente irrisorio calcolando che ora ho 41 mila se guardate poco fa quanti ne avevo calcolate quanti ne ho guadagnati vendendo poche pochi barili una ventina di barili d'acero quindi 200 l'uno quindi non sono tantissimi avevo finito la settimana a 17 mila e mi trovo a 41 mila quindi ormai sono diverse settimane che io fornisco barili e ogni fine settimana ogni domenica a mezzanotte vengo pagato una tantum sempre più alto quindi ormai problemi grossi non ce ne sono qua penso nel giro di due settimane di raggiungere magari 100 mila e quindi andare anche a pagare lo speedway e quindi compiere l'ultimo passo in questo gioco nelle cose da acquistare poi ci sarebbe da approfondire il discorso del del buggy molto bello il discorso di tutto quello che ho equipaggiato sulla mia macchina che adesso è pronta tra l'altro avete anche vi faccio vedere l'ultima cosa potete anche aprendo qui io ho montato le ciu e potete andare a modificare la potenza del turbo perché ho scelto di montare uno scarico turbo l'intensità dell'avs e il controllo di trazione cioè tantissime cose che comunque non ho detto ci sono ancora da dire tra l'altro si possono anche attivare e che ho montato i led sotto la macchina piuttosto che il nitro quindi il nos aprendolo lo potete vedere qui e qua la bombola la potete smontare e farla ricaricare dal tizio che arriva il venerdì ragazzi qua io chiudo questa serie di tutorial su mombazù fatemi sapere che cosa ne pensate e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay alla prossima ragazzi e ciao ciao